Salve a tutti e benvenuti qui ragazzi in questo nuovo video sul canale di Rochette Allora vi faccio questa breve intro ragazzi in webcam Semplicemente perchè in questo video come avete sicuramente letto dal titolo Parleremo di Pokémon spoiler Quindi dei leak che sono usciti ragazzi tramite la demo di il sole e luna Quindi se qualcuno non volesse ricevere magari degli spoiler sui Pokémon Sulle forme all'ora su tutte queste cose qua ragazzi E' meglio che non continui a vedere il video ma chiudo direttamente il video ragazzi per evitare problemi Quindi come avete sicuramente letto dal titolo ragazzi in questo breve video Che trovo abbastanza speciale in questo video Andrò ad ipotizzare i possibili typing ovvero i vari tipi dei vari Pokémon Che sono stati appunto leakati dai dati della demo di il sole e luna ragazzi Quindi diciamo un video abbastanza speciale Quindi se volete supportarmi in questo video ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace per supportarmi Appunto un commento molto importante per avermi la vostra opinione E i vostri possibili typing di questi nuovi Pokémon Se avete visto il video se non avete appunto interesse nel spoilerarvi di queste cose E una bella iscrizione al canale Quindi ragazzi non perdiamo tanto tempo e partiamo subito con questo video Sul canale di Rocet Per prima cosa ragazzi partiamo dagli starter Ovvero quei Pokémon che in ogni generazione sono veramente fondamentali E accompagnano l'allenatore nei primi giorni di avventura Allora per quanto riguarda le forme finali di Litten, Rowlet e Pop Sono abbastanza convinto per il loro typing Ma partiamo subito appunto dalla forma finale di Rowlet Ovvero il Rowlet in versione Arcee Allora per questo Pokémon sono praticamente sicuro al 100% Che manterrà il typing erba volante Quindi da Rowlet mantiene il typing erba volante Che appunto aveva nella sua forma base Sono praticamente sicuro al 100% Non vedo altri tipi all'orizzonte per questo Pokémon Quindi sicuramente ragazzi erba volante per Rowlet a Cere Passiamo però all'evoluzione finale di Poplio Allora in questo caso ho due proposte La prima ovviamente ragazzi Il tipo acqua deve essere accompagnato da un altro tipo Questo tipo secondo me potrebbe essere o il tipo acqua folletto Quindi diciamo che questa specie di sirena Assume il tipo folletto come typing secondario Che accompagnerebbe appunto il tipo acqua Ma in alternativa al tipo folletto Io metterei anche il tipo psico Insomma magari questo Pokémon potrebbe sfruttare I suoi poteri psichici per insomma svolgere al meglio Le sue coreografie e i suoi spettacoli acquatici ragazzi Quindi diciamo che le due alternative sono Acqua folletto e Acqua Psico Anche se vedo logicamente favorito Acqua folletto Sul typing Acqua Psico Decisamente secondo me per questo tipo di Pokémon Per questa sirena superstar Diciamo che vedrei meglio il typing Acqua Folletto Quindi andiamo con questo doppio tipo Ma passiamo ragazzi allo starter più appunto discusso Rigorante al suo typing Ovvero il Lucia Litten Il Litten Lottatore Veramente ragazzi uno starter di cui si parla da mesi Anche il suo typing è molto molto discusso Infatti anche qui abbiamo due possibili scelte Allora il tipo fuoco da chi verrà accompagnato Secondo me e ve lo dico ragazzi Mi prendo la responsabilità di quello che dico Il typing che accompagnerà il tipo fuoco Sarà il tipo buio Quindi avremo una forma finale di Litten Il Lucia Litten di tipo buio Semplicemente ragazzi perché Questo tipo buio viene suggerito Anche nella vignetta del leak cinese In cui vediamo appunto Una specie di scritta Che sembra appunto Secondo molti raffigurare Il tipo fuoco buio Quindi ragazzi io andrei con questo typing E non con l'ennesimo tipo fuoco lotta Veramente spero che la game freak Non cada in questa banalità In questo error Se così possiamo chiamarlo ragazzi Perché abbiamo già avuto un sacco di typing fuoco lotta E quindi vorrei che appunto Fossero un pochino più creativi E rendessero questo lottatore Un lottatore scorretto ragazzi Perché insomma I lottatori nel mondo del wrestling Sono anche scorretti Usano mostre scorrette Quindi perché ragazzi Non fare questo lottatore Questa tiga lottatrice Di tipo fuoco buio Appunto per simboleggiare questa tiga Che per vincere Usa delle mosse scorrette Per me sarebbe veramente ottimo E molto molto fantasioso Da utilizzare in un gioco pokemon Passiamo ragazzi però All'evoluzione di Piki Perché questa evoluzione Devo dire che ha fatto Storcere il naso Veramente tantissimi Perché appunto Non è stata ben apprezzata Questa cosa che si passa Dal picchio Ovvero Piki Perché ha questa Forma di tucano Che rappresenta appunto L'evoluzione finale Di questo pokemon Allora Nonostante appunto Questa cosa Che ha fatto Inbestialire molta gente Il pokemon è bello Io sinceramente ho fiducia Che possa appunto Essere una buona creatura Qual è il suo typing però Allora Partendo dal fatto che Piki Perché è il tipo Normale volante Io penso che anche Le sue due evoluzioni Rimano di tipo Normale volante Un po' come molti Dei pokemon volanti Delle scorse generazioni Però c'è ancora un typing Che potrebbe appunto Entrare A far parte Di questo pokemon Ed è il tipo acciaio Infatti molti hanno Appunto Suggerito Che il tipo acciaio Potrebbe fare riferimento Al suo becco Alla durezza E alla resistenza Del suo becco Veramente Veramente enorme Questo becco Tra l'altro ragazzi Quindi Il tipo acciaio Potrebbe appunto Fare riferimento A questo Quindi potrebbe anche Diventare un tipo Acciaio volante Questo specie di tucano È molto difficile Sinceramente Ve lo dico Proprio col cuore È molto difficile Che diventi Di tipo acciaio volante Però ragazzi Sono praticamente sicuro Diciamo al 90% Che questo pokemon Avrà il tipo Normale volante Adesso passiamo All'evoluzione Di crab roller Un pokemon Per cui Ho veramente Molti molti Per il suo typing Ragazzi Forse è uno dei peggiori Per quanto riguarda il typing Perché non ho veramente Idee Proprio chiare Ben precise Di quale possa essere Il suo typing Secondario Dopo il tipo lotto Ragazzi Infatti Crab roller Sappiamo di per certo Che è un tipo lotto Puro Ma questa evoluzione Questo granchio Che sembra Avete appunto Sviluppato Questa peluria Bianca Quale typing Secondario Avrà Oppure Possiamo fare Un'altra domanda Avrà sempre Solo il tipo lotto Quindi anche l'evoluzione Sarà di tipo lotto Puro Beh vi posso dire Che molti Hanno ipotizzato Che potrebbe Appunto Prendere come typing Secondario Il tipo ghiaccio Quindi un tipo Lotta ghiaccio Semplicemente perché Ha sviluppato Questa Questa specie di peluria Molto molto Forta Che magari potrebbe Proteggerlo dal freddo Quindi dai ghiacci E quindi potrebbe Assumere Il tipo ghiaccio Come tipo secondario Insieme al tipo lotta Sicuramente ragazzi Non saprei dirvi Se questa cosa Potrebbe essere Appunto Vera Potrebbe essere Sperimentata Nei giochi Dalla green flick Non lo so Io probabilmente Gli sarai solamente Il tipo lotta Come typing Per questo pokémon Poi si aggiungeranno Anche un tipo ghiaccio Perché no Non mi farebbe Neanche così schifo Ragazzi Come typing Come prossimo pokémon Vediamo questa specie Di riccio di mare Che è stata appunto Lickata Da amazon In una specie Di confezione Del tcg ragazzi Quindi è gioco Di carte Collezionabili Allora Questo è Paresemente Un riccio di mare Quindi il tipo acqua Possiamo dire Che è abbastanza Sicuro al 100% Allora io vedo Questo pokémon Ragazzi Come una specie Di tentacool Barra quillfish Ovvero un pokémon Marino Un pokémon Che vive nell'acqua Che appunto Sviluppa Delle particolari tossine Quindi una specie Di tentacool Barra quillfish Quindi ragazzi Secondo me Al 100% Questo pokémon Avrà il typing Acqua Veleno Una specie di remake Di tentacool E di quillfish Sono molto sicuro Di questa cosa Forse non proprio al 100% Ma comunque si ragazzi Sono molto fiducioso Per questo typing Come prossimo pokémon Ragazzi Parliamo di una creatura Che mi ha fatto Storciare veramente Tanto il naso Appena l'ho vista Nel leak Del pokérex Ragazzi Allora Questo pokémon È una specie Di ragno Sembra un ragno Con una bolla D'acqua Intorno E per esattezza È un ragno Palombaro Un ragno Che vive nell'acqua E appunto C'ha questa specie Di bolla Attorno al viso Ragazzi Quindi Quale typing Potrebbe avere Questa particolare creatura Ragazzi Questo ragno Molto particolare Che si Dota di questa bolla Per ricopirsi Il volto Beh ragazzi Possiamo dire Che associamo Il fatto che è un ragno Al fatto della bolla E io metterei Proprio Di per certo Un typing Con le ottero Acqua Per questo Per questo mitico ragno Sì Lo so È un typing Che abbiamo Già visto In windpod Però Sicuramente Non vedo Altri typing Per questo Walk Qualcuno Aveva detto Anche il tipo Psycho Perché ricorda Un po' Una specie Di alieno Ma non Credo Ragazzi Cioè Sinceramente Io gli darei Il tipo Quello Ottero Acqua Poi Beh Se ho sbagliato Sono pronto A prendermi le mie Responsabilità Ragazzi Per questo Erore Che ho fatto Un discorso Molto Beve Ragazzi Deve Deve Sere fatto Per l'evoluzione Di Morlal Ovvero Quel piccolo funghetto Di tipo Erba Folletto Se non ricordo male Beh Qua non ci sono Veramente dubbi Ragazzi La sua evoluzione Manterà Senza Omba di dubbio Quindi al 110% Il typing Erba Folletto Quindi diciamo Che su questo Pokémon Non ho praticamente Niente da dire Così come Non ho niente da dire Ragazzi Sull'evoluzione Di Sandit Infatti Anche questo Pokémon Vedo Confermato Al 100% Anzi Forse anche Al 200% La sua Appunto Il suo typing Il suo doppio typing Veleno Fuoco Unico nel suo genere Ragazzi Infatti possiamo dire Che è il primo Pokémon Che è dotato Di questa Particolare Combinazione Di tipi Quindi Anche per questo Pokémon Diciamo che È molto Probabile Una riconferma Del tipo Veleno Fuoco Come prossimo Pokémon Parliamo D'evoluzione Di Winpo Ragazzi Quel Pokémon Che sembra Essere Magica Per questa Generazione Infatti Passa dall'essere Un Pokémon Davvero Molto Molto Scasso Ad una Specie Di bestione Una specie Di scarafaggio Gigantesco Pieno Di muscoli Che veramente Ragazzi È una specie Di grados Di questa Generazione Allora Non penso Che manterrà Il typing Con l'Ottro Acqua Penso che Parlerà Il tipo Acqua Anche perché Non vedo Niente Del tipo Acqua In questo Pokémon Sinceramente Potrebbe diventare O un tipo Con l'Ottro Lotta Con queste Specie Di grandi Braccia Ragazzi Con cui Potrebbe Dei pugni Veramente Devastanti Oppure Potrebbe Anche Diventare Ma proprio Non è molto Sicuro Ragazzi Potrebbe Essere Un'alternativa Ma non Tanto Insomma Sicura Potrebbe Assumere Il tipo Buio Insieme Al tipo Con l'Ottro Quindi Diventare Un tipo Con l'Ottro Buio Diciamo Che io Vedo Più probabile Il typing Lotta Insieme Al Esce Di questa Appunto Generazione Di Alola Dopo Il Pokémon Agile Esce A Kalos Vediamo Ragazzi Un'ancora Che all'inizio Mi aveva Un pochino Deluso Come Pokémon Spettro Oggetto Di Questa Generazione Però Ragazzi L'ho un po' Rivalutato Con il passare Dei giorni Vabbè Il suo Typing Potrebbe Essere Molto Semplice Da intuire Ovviamente Tipo Spettro Mi Sembra Abbastanza Sicuro Come Typing Primario Poi È un'ancora Ragazzi Quindi Diciamo Che è associata All'ambiente Marino Ma comunque Sì Ragazzi È un oggetto Metallico Quindi La mia domanda È ragazzi Dopo il tipo Spettro Avremo O Il tipo Acciaio Oppure Il tipo Acqua Questo Non lo so Veramente Ragazzi Diciamo Che Per essere Un 50 50 Le due Alternative Mi piacciono Entrambe Sia Spettro Acqua Sia Spettro Acciaio Però Non so Ragazzi Potrebbe Sare Le cose Benissimo Perché Come vi Dico È un oggetto Ispirato All'ambiente Marino È un oggetto Metallico Quindi Non lo so Potrebbe Essere Ispirato A entrambi I typing Come Possiamo I pokemon Ragazzi Abbiamo Dei pokemon Altrettanto Facili Da intugare Per quanto Riguarda Il typing Infatti Ragazzi Questi typing Sono Veramente Simili Anche Ai typing Degli Oricorio Ovvero Quegli uccellini Che erano Basati Sui vari Tipi Di Danza Se non Ricordo Ma Spettro Folletto Quindi Ragazzi La stessa Tipologia Di typing Degli Oricorio La stessa Identica Cosa Mi Sento Sicuro Di Questa Cosa Quindi Diciamo Che Potrebbe Essere Così Al 100% Per quanto Mi Riguardo Anche Nel Gioco Finale Prima di Passare Formato Ma Però Ci sono Altri Tre Pokemon Molto Molto Strani Ragazzi Infatti Più Che Possiamo Vedere Sono Le Di Nuvoletta E Una specie Di Stella Allora Considerando Che Solgaleo e Lunala Hanno il tipo Psico In comune E che poi Solgaleo è tipo Psico Acciaio Mentre Lunale Tipo Psico Spettro Diciamo Che ragazzi Io metterò Il tipo Psico Puro A questi Due Pokemon A meno Quando Si evolvono O prendono Il tipo Acciaio O si diventa Solgaleo O prendono Il tipo Spettro Quando Diventa Lunala Quindi Ragazzi Diciamo Che per Questi Pokemon Vedranno Molto Ma Molto Probabile Il tipo Psico Puro Un discorso Un po' Diverso Però Dobbiamo Farlo Ragazzi Per Il Pokemon Che Sembra Essere Effettivamente Marshadow La tanta Vociferata Creatura Delle Eclissi Che Appunto Finalmente Compassa Dall'arte Della Demo Allora Io Sono Veramente Nel Dublio Ragazzi Per questo Pokemon Leggendario Per questo Pokemon Anzi Speciale A Occhio Direi Fuoco Buio Però Non lo so Ragazzi Cioè Il Type In Questo Pokemon Potrebbe Essere Davvero Molto Diverso Da Fuoco Buio Perché Magari Alcuni Dicono Anche Un tipo Folletto Visto Che Sembra Essere Una Specie Di Fatina Sono Non Una Fatta Proprio Vero E Entrare In Questo Pokemon Ma Adesso Ragazzi Passiamo Proprio Di Velocità Alle Forma Lola Allora Sono Veramente Poca Le Non Ce La Faccio Comunque Sia Ragazzi Il Typing Veramente Molto Semplice Infatti Penso Che Come Miao Avrà Semplicemente Il Tipo Buio Puro Quindi Non Vedo Altri Typing Anche Perché Non Ce ne Sono Suggeriti Da Questo Sprite Quindi Buio Puro E Via Ragazzi Ci Abbiamo Già Fatto Il Inaspettati Allora Partiamo Dalla Catena Di Geodude Vediamo Questo Geodude Con Le Sopracciglia Folte Così Come Per Grave L'eramente Golem C'ha Sia Queste Baffi Sopracciglie Sia La Barba E Poi C'ha Questa Specie Di Rocce Nere Sulla Sulla Schiena Allora Inizialmente Io Pensavo Per Questo Vokemon Ad Un Typing Fuoco Roccia Dato Che Pensavo Allora Però Facendo Delle Ricerche Queste Rocce Potrebbero Rappresentare Delle Rocce Magnetiche Delle Rocce Che Si Sono Elettrificate Infatti Ragazzi In Golem Vediamo Anche Dei Puntini Gialli Che Potrebbero Appunto Rappresentare Questa Cosa Qua L'elettricità Una Cosa Del Genere Potrebbero Essere Delle Rocce Elettrificate Dei Magneti Quindi Perché Non Dare A Questo Pokémon Il Ricerche Ho Appurato Che Ci Sono Queste Rocce Magnetiche Queste Magnetiche Diventano Appunto Elettrificati Perciò Potrebbero Sinceramente Rappresentare Delle Rocce Appunto Con Delle Elettricità Quindi Perché Un bel Typing Rocce Eletto Non Farlo Perché Non Farlo Ragazzi Sarebbe Tranquillamente Una Soluzione Più Che Ottima Per Questo Pokémon Ma Non è Finita Qui Perché Ci Mancano Ancora Due Pokémon Molto Ma Molto Bizzarri Allora Digget Ed Altro Cari Miei Pokémon Di Prima Generazione Cosa Siete Diventati Ebbè Ragazzi Me lo sono Chiesto Per molti Giorni Questa Cosa Sono Diventati Questi Pokémon Allora Apparentemente Questi Pokémon Allora Hanno Appunto Avuto La Rirescita Dei Capelli Ma Siamo Davvero Sicuri Che Siano Proprio Veri Capelli Queste Queste Cose Ragazzi No Non Proprio Non Proprio Allora Facendo Delle Ricerche Ho scoperto Una Cosa Veramente Molto Interessante Su Questa Cosa Ragazzi Dei Finti Capelli Allora Questi Capelli Ragazzi Sembrerebbero Essere Ispirati Ai Capelli Di Una Particola Divinità Hawaiana Una Divinità Dei Vulcani Che Si Chiama Pele Questa Divinità La Questa Specie Di Capelli Diciamo Che Ha Interlotto Questa Specie Di Materiale Che Molto Simile A Dei Capelli Umani Biondi Allora Questi Capelli Sembrerebbero Essere Praticamente Adesso vi spiego Molto In breve Da quello Che ho Capito Nelle Mie Ricerche Ragazzi Sembrerebbe Essere Delle Specie Di Pezzi Di Lava Che Si Sono Solidificati E Poi Hanno Assunto Questa Particolare Forma Quindi Sembrano Delle Specie Di Di Capelli Ma In realtà Sono Della Lava Solidificata Ragazzi E Esiste Davvero Questa Cosa Veramente Vi Giuro Che Esiste Davvero E Prendono Nome Da Questa Divinità Dei Vulcani Che Si Chiama Pene Infatti Vengono Chiamati I Capelli Di Pene Ragazzi Quindi Veramente Un'ottima Cosa E Appunto Come Poteva Assunto Questi Capelli Dactrio E Digget Beh Semplice Ragazzi Magari Ha Scavato Intorno A Queste Are Vulcani Che E Appunto Raccolto Mentre Scavava Questa Specie Di Magma Solidificato Che Appunto Sembra Che Formi Dei Capelli Su Questo Poco Ma In realtà Non Sono Capelli E Lava Solidificata Notare Anche Una Cosa Molto Importante Guardate La Terra Intorno A Digget E Dactrio Forma Lora E Molto Più Scura Rispetto A Quella Della Forma Normale Di Digget E Dactrio Ragazzi Infatti Nella Forma Normale Vediamo La Terra Normale Mentre In Questa Forma Vediamo La Terra Che Sembra Essere Molto Simile Al Terreno Che C'è Vicino Alle Zone Vulcaniche Ragazzi Quindi Attenzione Colpo Di Scena Questo Pokémon Va Il Tipo Terra Fuoco O Fuoco Terra Una Cosa Del Genere Comunque Sia Secondo Me È Molto Probabile E Trovo Anche Che Sia Molto Bella Come Appunto Ispirazione Per Questo Pokémon Infatti Se Inizio Lo Scettico Per La Sua Origine Con Questa Cosa Che Ho Scoperto Beh Sono Veramente Euforico Perché E Geniale Cioè Se E Così Ragazzi Da Game Freak Se Mi Dammi Un bel Commento Per Mila Vostra Prendiamo Ragazzi Su Questi Tarting E Una Bella Iscrizione Al Canale Noi Ci Vediamo Ragazzi Domani Con Un Posto Video Un Saluto A Rochette Buon Pomeriggio Ovviamente Bye Bye Bye